segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te per prima dire una cosa che è doverosa dire nei confronti di giorgia meloni cioè un ringraziamento per quello che ha fatto per per zaghi è stato un comportamento netto da buon governante con 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 la forza e la chiarezza di ciò che doveva fare l'ho fatto e quindi bisogna riconoscere che è accaduto qui invece ci troviamo in una situazione completamente completamente inventata a cominciare dalle parole pensate al piano mattei per avere un piano mattei ci vuole mattei sarebbe come fare un piano leonardo per la scienza ci vuole leonardo non è così facile inventarsi le persone e le situazioni quindi il piano mattei è una espressione priva di senso fatta per occupare lo spazio di una soluzione che non si riesce a a trovare mattei sarebbe la persona che redime alcuni paesi africani e li mette in condizioni di muoversi come se fossero europei può la meloni o qualunque purtroppo qualunque paese europeo della dell'unione europea in questo momento fare un'azione mattei creare un piano mattei è chiaro che si tratta di una invenzione per non dire di una falsità con la quale si mettono in movimento alcuni personaggi non tutti di promordine nel dell'africa che gravita sul mediterraneo per 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 creare una una situazione che non può e non deve essere all'ultata cioè fermare i movimenti dei migranti fermare i movimenti dei migranti siamo ancora all'inizio siamo ancora mentalmente e intellettualmente all'inizio della storia della migrazione quando si inventavano le leggende sulle sulle barche di salvataggio quando si inventava che soris soros si arricchiva e che l'economia italiana veniva impoverita dal fatto che c'erano i si aumentava l'immigrazione le bugie che sono state raccontate sull'immigrazione sono state tantissime tutte di provenienza fratelli